Crescita in pericolo, crisi migratorie, minaccia del terrorismo e diseguaglianza sociale sempre più accentuate. A livello globale sono i temi caldi che costituiranno il cuore del dibattito del Forum Mondiale dell'Economia di Davos, che si apre oggi nelle Alpi Svizzere. Un vertice, come sempre caratterizzato da misure di sicurezza estreme, e che rendisce oltre 2.500 manager e leader politici da tutto il mondo. La conseguenza della diseguaglianza è il populismo. Crescono i politici come il repubblicano Donald Trump, Marine Le Pen e il Front Nazionale in Francia, e in Ungheria l'estrema destra del premier Viktor Orban. Lo stesso fenomeno si ripete per l'estrema sinistra, con il candidato democratico Bernie Sanders negli Stati Uniti, con Jeremy Corbyn nel Regno Unito. Sostiene Richard Edelman, esperto in pubbliche relazioni. Il tema ufficiale di questa edizione del Forum di Davos è la quarta rivoluzione industriale destinata a trasformare l'economia globale, tuttavia è la stringente attualità che cannibalizza la discussione con l'economia in recessione e il terrorismo in crescita esponenziale. Grazie.